La Repubblica Popolare Democratica di Corea è sempre più vicina e soprattutto il suo rapporto con l'Italia si fa sempre più stretto. Ieri sera all'Ambasciata di Roma si è celebrato il 66esimo anniversario della Fondazione della Repubblica, così come si è fatto nelle altre ambasciate del mondo. Invitate anche le autorità italiane con il senatore Antonio Razzi e componenti della delegazione italiana che due settimane fa sono state nel paese asiatico. A fare gli onori di casa l'Ambasciatore Kim Chung-gook che ha ribadito il rapporto stretto che intrattiene con l'Italia e la possibilità che sia proprio il nostro paese a fare da tramite per una distensione nel sud-est asiatico. Anche noi vogliamo mantenere questa amicizia che finora abbiamo fatto molti lavori insieme così anche in avvenire vogliamo continuare questa amicizia con la TV6. Per me era più interessante venire alla festa nazionale di un paese amico, almeno dopo il trattamento che abbiamo ricevuto lì in Corea. Un trattamento veramente alla grande e questo è un dovere oggi essere qui alla festa nazionale. Grazie mille signor senatore Antonio Razzi, anche Ferrante, molto vi ringraziamo tanto.